Il Messico conquista un nuovo primato strappandolo agli Stati Uniti, ma non è un primato che gli fa onore. Parliamo infatti di obesità. Il Messico è diventato il paese più grasso del mondo. Secondo un rapporto della FAO, il 32,8% dei messicani è obeso e il 70% è in sovrappeso. La principale causa di questo grave primato è il peggioramento delle abitudini alimentari. L'alto consumo di bevande gassate, ad esempio. Ne beviamo 163 litri all'anno a persona. Oltre a questo c'è anche un alto consumo di cibo malsano. Secondo gli esperti, il trend è determinato da ragioni economiche. In Messico, infatti, il 50% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà e il cibo sano è molto più costoso del cibo spazzatura. Siamo a un punto di non ritorno. O risolviamo il problema o il nostro sistema sanitario collasserà e con esso tutto il paese. Non possiamo far finta che non sia un problema di sicurezza nazionale. Secondo il rapporto, le morti causate dall'obesità e dai problemi di salute superano ogni anno quelli causati dai cartelli della droga. Solamente a causa del diabete muoiono ogni anno circa 70.000 persone e vengono diagnosticati 400.000 nuovi casi. Grazie.